Ragazzi, benvenuti a tutti. Siamo qua, Alessandro Lucente, con il Deal di Hector of the Show. Che significa The Show? Praticamente questo è il primo episodio, la prima puntata di questo nuovo format, dove ogni volta andrà in televisione stare un ospite, un attore, un regista, un sceneggiatore, un qualcuno che fa parte del mondo dello spettacolo per sviscerare e svelare ancora di più che cosa significa fare questo mestiere, eseguire questa vocazione. Oggi il nostro caro primo ospite è Stefano e ben arrivato, benvenuto. Grazie, eccoci qua, eccoci qua. Allora, questa qui è una situazione nuova, come ti dicevo, non è fatta, quindi... Anche per oggi? Sì, per ora sì, per adesso sì. A me è una cosa che mi piacciono di te come uomo, è conoscerti proprio come persona. Ah, mi fa piacere, questo mi fa molto piacere. Come ti annava questa passione? Allora, diciamo che io cercavo, durante la mia adolescenza sono stato molto inquieto, non sapevo nemmeno bene cosa fare. Io sono stato mandato così, senza neanche chiedermi se volevo farlo o meno, subito dopo le scuole medie, sono stato mandato a lavorare in fabbrica, punto, non c'era verso, io devo lavorare, perché venivo da una famiglia molto... venivo da una famiglia povera, peraltro avevo perso mio padre, stava morendo mio padre proprio in quel momento, e mi sono dovuto trovare, mi sono trovato a lavorare in fabbrica, che era un incubo. Una cosa da incubo, io dico, ma se io devo, ma questa è la vita, avevo 14 anni, se questa è la mia vita, io devo, no, eh, o mi ammazzo o trovo un modo per farla diventare più bella, perché così è impossibile. Mi c'è voluto un po' di tempo, mi sono avvenuti un po' di anni, ho combinato tanti di quei guai dentro con la fabbrica, perché questo sarebbe un capitolo da raccontare, no, dei guai, perché proprio non volendolo fare, le combinavo una dietro l'altra, una dietro l'altra. Quelle della fabbrica le te la lascio, ti dico solo questo, il lavoro dopo a questa fabbrica, che mi ha trovato sempre mia madre, era l'odonto tecnico, ok. Allora, e non volevo fare neanche quello, perché non volevo proprio essere chiuso in un posto otto ore al giorno, no, no, non ce la potevo fare. Allora, per dirti, mi mandano, il primo giorno di lavoro, mi mandano a fare, arrivo a lavorare, mi mettono questo camice bianco, poi mi dice, vai su dal dottore, su dal dentista a prendere un lavoro. Io vado, suono, mi apre questa infermiera e mi mette su un pezzo di carta, sulla mano, una dentiera tutta insalivata di un vecchio. E poi, bam, chiude la porta, io rimango con questa cosa qua, e non la volevo vedere, non ero abituato, mi dava fastidio, non la volevo vedere, e ho cominciato a scendere le scale senza guardare, insomma mi è partita la dentiera giù dalle scale, quindi il primo giorno alle otto di mattina, non dopo una settimana, primo giorno alle otto di mattina, sfraccellata la dentiera, e mi dico, e ora come faccio a dirglielo? Volevo scappare, poi invece sono andato, l'ho detto a un collè, a uno che era lì, in cui mi ha da ridere, da morire subito, perché ha iniziato così. Nel frattempo scende il cliente, il vecchio, che in dialetto, bolognese, io sono di Bologna, ha cominciato a dire, ma è una mica, è una mica! E io che poi non sapevo che cazzo, questo è l'esodio, e poi ne ho cominciato a tante altre, fino a che io ho detto, basta, e mi è nata, dove mi è nata? Partendo, dovevo fare il militare, altra cosa che non volevo assolutamente fare, stare un anno, un'altra più, in un'altra galera, per un anno, quindi ho detto, io questa cosa qui non la voglio fare, devo trovare un modo per non farla. E mi sono inventato, appunto, un personaggio, ma non sapevo, non perché volevo farlo attore, così, disagiato, con delle crisi depressive, delle ossessioni, e mi funzionavano così bene, che mi sono impressionato, ma non è che ho un posto così davvero? E poi, invece, era appunto questa attitudine, diciamo, perché proprio con i medici, era improvvisazione quella, però improvvisavo, li spiazzavo, cioè ci credevano? Eh, li spiazzavo, sì, sì, ci credevano, perché io li spiazzavo completamente, loro mi dicevano, cioè, uno che finge, magari faccio un esempio, no? Mi ricordo uno che mi disse, ma dimmi la verità, non è che ti sei fatto una canna? Allora, lì, io invece di dire, per esempio, no, io le canne non me le faccio, non sto bene, eccetera, eccetera, io gli disse, ah sì, perché? Sembra che mi sono fatto una canna? Allora sto morendo, sto male, è per quello che mi dice che mi sono fatto, aiuto, 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 capito? Aiuto, aiuto, dottore, aiuto! E quindi medicina, sì, ma così, all'istim, istintivamente, capito? Eh sì! Non t'hanno mai sgamato? Mai! Anzi, io ho colto quell'occasione lì, subito, e poi, infatti, l'intelligenza attoriale, cosa ho fatto? Subito ho pensato, aspetta, adesso devo andare a trovare i medici, sono, mi sono vestito, aiuto, 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 lui mi disse, vai giù, fatti da 30 gocce, sì sì sì, aiuto, aiuto, mi vesto, mi metto il pigiama, questa divisa che mi danno, esco qua mentre esco, dico, aspetta, dove vado? Non vado qua sotto, io adesso devo andare dal reparto di tutti i medici, in modo tale, dove ci stanno proprio tutti i medici, in modo tale, mi vedono, e domattina sanno già chi sono, e tutti così sanno già chi è, e tutti sanno già chi sono, bom, 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 arriva lì il busso, bom, 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 questo mi apre, vede sto pazzo qua, e mi dice, appena mi guarda, mi guarda così, io dico, aiuto, aiuto, mi dico che sono un drogato, sembro un drogato, dottore, aiuti, mi aiuti, sembro un drogato, muoio, sto morendo, aiuto, così, lui mi dico, stai calmo, stai calmo, e così, capito? E quindi, da lì ho capito, da lì, in tre giorni sono tornato a casa, tre, sono partito, il martedì, il venerdì ero già a casa, con 30 giorni, poi lì, io venivo proprio in un periodo difficile per il militare, insomma, ci sono state anche gente che si è ammazzata veramente, perché poi non ti mollavano tanto facilmente, e poi c'era, sempre le donne che sono sempre un legame molto forte, da lì poi c'era una che mi piaceva che si iscriveva a un corso di recitazione, e io ho legato quelle due cose che io ho detto, però cavolo, anche a me interessa questa cosa, in più c'era questa ragazza che mi piaceva, e lì sono iscritto, e da lì, che da verità, avevo 21 anni, quali sono per te le paure che vai ad affrontare quando reciti? Sai che non ci ho mai pensato? A te ti riesce naturale, comunque, non hai timori, non hai paure, io mi capo in mano, io mi capo in mano, quando devo andare a recitare non è una cosa semplice, ce l'ho dovuto studiar bene, devo prepararmi, cioè più sono preparato, più sono sereno, sicuramente. Eh, 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 però è sempre un tanto più il teatro, ecco, il teatro si pulisce il cinema, secondo me, il teatro, ogni volta le sali che si apre, che vai sul palco, veramente ti ti... 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 Eh, da morire! No, 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 da morire, appunto, ti stavo dicendo, sicuramente in teatro molto di più che in Cina, perché in Cina, meno male, sì, è chiaro che puoi andare nel panico, comunque, anche lì, di non riuscire a farne manco una, manco un chat, però, meno male, puoi interrompere, insomma. Ecco, c'è stato tipo qualche chat, qualche qualche... c'è stato qualche... qualche lavoro dove ti sei cagato in mano? Dove te la sei fatta so... c'è qualche lavoro dove hai avuto paura? Allora, in cinema e in tv, mai, allora, soprattutto, soprattutto, all'inizio, mai, poi, devo dire che quando ho avuto dei momenti di inattività, secondo me, lì, a un certo punto, sì, c'è stato un lavoro che ho fatto, che a un certo punto mi ha preso il pensiero e se non ce l'è, è... che è terribile. Non so perché, non avevo nemmeno un ruolo così importante, però era un pochino di tempo che non lavoravo, per cui, poco prima di girare ho pensato, mi ha attraversato un pensiero, tipo... adesso è passato anche da questo... da questa cosa colpa di tempo, tipo... tipo com'è se non ce la faccio? Quello mi ha fregato perché... oppure se non mi ricordo le battute, oppure non mi ricordo che ho... mi ha attraversato un pensiero che non aveva mai attraversato prima, anzi, per me era un momento, andare a recitare, era un momento in cui io, forse, tra virgolette, ero più sicuro che nella vita. Ma non perché penso di me di essere un grandissimo attore, no, perché mi dà uno stato di... come un bambino che si mette veramente a fare un gioco e quindi gioca e basta, non si chiede perché e per come, non perché... perché mi sento Robert De Niro, no, assolutamente. E invece lì mi ha attraversato un pensiero non bello, che ora non ricordo più e così mi è successo. Poi io sono molto emotivo, mi è successo così, mi sono bloccato e mentre io veramente facevo sempre i ciak tranquillamente, volare la prima, eccetera, mi sono bloccato e da lì mi è venuta la paura, mi è salito proprio il nodo alla gola, qua, la paura, qua, nella pancia, qua. E non riuscivo più. Uno, due, tre ciak e più non riuscivo e più mi ne va in panico. Porca miseria, non so come... sì, ne sono uscito, ne sono uscito, ne sono uscito sudando. Però ecco, ho avuto come una attacco di panico. Sì, ho avuto come un attacco di panico. Non è che c'è soltanto quindi là, due... sì, sì, adesso l'avevo un po' messo da parte. Ho avuto un attacco di panico, sì, mi ha preso come un attacco di panico, perché il problema poi era diventato che io sentivo questo panico, non riuscivo più e mi dovevo liberare di quello. Allora abbiamo fatto un attimo una pausa e lì ho cercato di calmarmi. Appena sono riuscito a fare passare questa paura che era diventata una paura enorme, non so nemmeno più di cosa. E quindi temo di aver avuto una sorta di attacco di panico. Appena sono riuscito a calmarmi, poi la scena l'ho fatta, tenevo che fosse venuta malissimo e non è venuta male. È altrettanto così bello, mamma mia, quanto è bello. È troppo bello. E sono d'accordo. Il lavoro per... io ho una passione... cioè, a me pure fare lo stesso identico lavoro è una cosa che mi pesa tantissimo. Quello che mi piace dell'attore, della recitazione, tu puoi essere veramente uno, nessuno e cento di uno. Cioè, puoi essere e imparare, non in maniera troppo approfondita, però puoi studiare e apprendere anche altri mestieri, altre cose. Non è che si è qui di concentrare su di te, ma sei concentrato anche sul personaggio che interessa, su qualcun altro, no? Quindi fuori da te vai a attraversare, come diceva il caro Margotta. Qual è, secondo te, il consiglio che hai con la tua esperienza che ti senti di dare a qualcuno che vuole intraprendere questo cammino? E qua lo metto in crisi perché non so niente la risposta. E non so assolutamente cosa rispondere. Ti ho detto che c'è niente male, non lo so. Perfetto, non ti preoccupare, non te la faccio questa domanda, invece di dire facciamo. Maledizione. Allora, la prima cosa, innanzitutto non si può, io ho capito una cosa, che è un lavoro dove non puoi permetterti di essere depresso, mentre... Tosta! Sì, secondo me questa è la prima cosa. Tosta! Questa è la prima cosa. Non dare spazio alla possibilità di deprimersi, che però se uno ce l'ha dentro, una forma di malinconia, di depressione, di disagio, come quasi tutti gli attori hanno, non solo gli attori, lo specifico, anche le attrici, anche le attrici e anche tutti, tutto il mondo del lavoro. Cioè le persone sono persone, non è che solo un certo, un determinato settore ha dei disagi, sennò tutti matti, è un po' un luogo comune dire che gli attori sono matti, non vuol dire niente. Però sicuramente uno si avvicina a questo tipo di cose per già un'insoddisfazione, una voglia di trovare qualcosa, eccetera. molte persone... Anzi, è un lavoro che porta alla depressione, per forza. Cioè ci vuole una stabilità interiore, tralmente alta, per sopportare tutto appunto quello che c'è dietro, visto che comunque se uno non è figlio Dio, non so che cosa, è un percorso lunghissimo che non si sa dove va a finire, se uno poi non c'ha appunto tanti soldi di famiglia deve trovare il modo di guadagnare in tutti i modi, insomma, quindi tutto ciò, poi l'essere preso, non preso, selezionato, quello sì che è la nostra, quella è un'altra cosa che... Mamma mia! E poi improvvisamente ce la fanno delle persone che non si capisce perché, altri invece magari che partono in un modo, avevano un gran talento, no, è un mondo che non ha una regola, non ce l'hai mai capito? No, non c'è un algoritmo. Come funziona? Ah, io una sì. Secondo me una c'è. Eh, secondo me. Ed è quella che consiglio a tutti, la costanza, io ho capito questo, perché il talento ci può stare, non ci può stare, l'abilità si può avere, o non si può avere, ma può essere acquisita, ok? Dici ok, è un mestiere alla fine, quindi ci sono anche gli attori mestieranti che sanno come porsi sul set, come imparare, in base all'obiettivo, alle luci, microfono, come gestirti le scene, come gestire... cioè sono cose che si... è un mestiere che si può imparare tecnicamente. Poi c'è il discorso del talento, ok? Però io so che entrambe le, come dire, le due caratteristiche, le due capacità, è come se devono fare una corsa ed è una maratona, non è uno sprint. Il talento probabilmente è più sprint, quindi ti batte sui 100 metri, sui 200 metri, e ti stacca proprio da quello che è più mestierante. Però è una maratona, cioè sono 40, sono 50 chilometri, sono tanti chilometri, perché dura tutta la vita fondamentalmente. Io so, per esperienze che ho visto, chi è costante, è costante, comunque sia nel lungo termine, che porta più risultati. A portare in cosa? In fare il mestiere, a portare avanti il mestiere dell'attore, che è non soltanto, ovviamente, stare sul set o stare a recitare. Il mestiere dell'attore è anche tutto quello che c'è dentro le quinte, che sono le relazioni pubbliche, che sono riuscire a presentarsi, riuscire anche a mantenere il giusto... Tu dicevi, il discorso della depressione, oggi viene chiamato mindset, viene chiamato, come dire, attitudine, queste cose qui, no? Essere focalizzato. Ecco, essere focalizzato. Io sono convinto che essere focalizzati, quindi avere il focus, ed essere costanti con tutto che uno può cascare di depressione, si può buttare giù, è tosta. E poi andare avanti i piccoli passi, quello fa la differenza. Io sono convinto di questo, sono convinto. Beh, perché in questi momenti, praticamente, di sconforto o di... che non è proprio la vera depressione quella che aveva Vittorio Gasman, mio maestro, che ho fatto alla scuola sua, poveretto, che venne anche in un momento in cui si aveva dagli occhi che era devastato il poverino. Quella si chiama depressione maggiore. Questi sono momenti, sono depressioni reattive, chiamate reattive proprio in psicoterapia. E cercando, appunto, di ritrovare un senso, di ricrederci. Perché in questi momenti tu non ci credi. Dici, ma io non ce la faccio io. Io, per me, e poi cominci a dire, dipende dalla fortuna, che la fortuna è importante, però anche lì apriamo un barco. E' importante, allora la fortuna va a trovare proprio quello che è vicino all'onda della fortuna, come attivo di atteggiamento, come... La fortuna è una fortuna è una fortuna che mi piace, come immagino, eh? Eh, è vero. E se ne avvicinassi al... Eh, ma ti devo regalare un libro, è vero che ti devo regalare un libro. Ti avevo detto. Ripartire da il crederci che ce la puoi fare. Perché si identifica... Ma tu sei sicuro che... Da quel tipo di sicuro che ce la fai a diventare... A lavorare molto bene, molto bene, molto bene. Ci credi veramente? Quindi, insomma, sono domande... No, rispondi distinta. Eh, perché sì, io ci credo. Se sennò stai neanche qua, ragazzi. Allora, esattamente questo. Ma se quello sta dicendo verso questo, eh, io ho passato. Proprio... E' tosta. E' tosta. Perché poi ho una lotta interna proprio, no? Una letta con te stesso proprio. E' lunga. La cosa che ho capito... E guarda, il giorno ho capito anche con questo workshop, ragazzi. Devo, con me stesso, rialzare le aspettative. Cazzo quanto è importante. Eh? Adesso guardo allo specchio e mi dico io. Cosa desidero dalla mia vita? Cioè, dov'è che volerlo? E quindi io devo sognare. Cioè, ritornare a sognare. Capire come funzioniamo non è una cosa semplice. Io a un certo punto ho capito che stavo accettando di non farcela. Stavo accettando e quindi accettavo le persone che mi dicevano, ma devi trovare, ma dai, trova un'altra cosa, devi trovare un'altra cosa, non puoi fare così. Cosa ti piace? 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 Ah, io dicevo, mi piace bere. Mi piace bere il vino. Non perché non sono un alcoolizzato, ma mi piace veramente la qualità. Bere il vino. Sono un benitore di vino, un amante del vino. E ho provato anche appunto. Ma poi ho detto, ma chi cazzo me ne frega? A me piace bere il vino. Mica voglio lavorare, fare insomma, gli e queste cose qua. E mi sono ridetto, perché stavo accettando pian piano di mettere una pietra sopra. E più accettavo di mettere una pietra sopra e meno arrivava, non arrivava niente, niente, niente. E io pensavo che forse andasse così, non dipendesse da me. Guarda, lo vedi, si chiude sempre di più la cosa, si chiude sempre di più e quindi devo accettare questo fatto. Poi di nuovo sono stato male e a un certo punto ho detto, Stefano, ma tu cosa vuoi veramente? Sei sicuro che ancora non vuoi veramente quello? Ho detto, sì, io ancora voglio veramente quello. E quindi ho detto, e adesso allora mi rimbocco le maniche di nuovo per quello. Parto dall'interiore, mi dico la verità, io voglio veramente quello. E da lì vedo, mi ricostruisco, vedo perché non mi succede, cosa posso fare, cosa non posso fare, eccetera, eccetera, eccetera. E pian piano, devo dire, che si muovono delle cose. E quando è che hai avuto, almeno, questa illuminazione? Cioè, questa epoca, questo momento, no, caduta la cavallo, però, no? Alla San Paolo. Cioè, non è che ti sei nati minuti, ti sei fatto queste domande. Ma, boh, non tanto tempo fa, non tanto tempo fa mi sono accorto che stavo accettando totalmente questo. Ma nel più che accettando, non pensavo che più di tanto, pensavo che io più di tanto non potevo più fare, basta. Che che dovevo fare? Cioè, avevo raggiunto un'età. Quello che ho fatto, avevo fatto. Chi mi conosce, mi conosce. Chi non mi conosce, lo stesso. Se mi voglio, mi chiamo. Non mi chiama nessuno. E quindi, basta. Che devo fare? Non posso fare niente. Devo per forza fare un'altra cosa. Poi, ad un certo punto, ho detto, ma io non voglio fare un'altra cosa. Quindi, adesso, io mi ridetermino su questo aspetto qua. Cioè, almeno interiormente, almeno mi dico la verità. Dico la verità. No, non lo vado a fare coi vini. I vini me li bevo. Non ci lavoro. Non mi frega un cazzo di lavorarci. Voglio fare questo. E quindi, in qualche modo, ci devo credere. Cioè, non mi posso fare prendere dal pane, dalla paura. O se non ci riesco. Perché poi c'è sempre dietro l'aspetto economico. Cioè, che hai presente. Se poi tu non hai le spalle coperte. È un casino, eh. Cosa gli fa? È un casino se non hai le spalle coperte. Dici, sì, ho capito. È un bel da credere, da credere, da credere. Ma guarda quanti cazzo di anni hai. Guarda quanti anni hai. Guarda come sei messo. Che fai? E quindi è una lotta costante, no? Eh. Però il fatto di dire NO! Non accetto. E quindi mi rinasco. Rinasco. Torno a nascere. Oh. Buono, Stefano. Dai, che per oggi abbiamo dato. Vediamo poi come andiamo a sistemare. Appunto, prima di chiudere, questo era il libro che è per te. Si chiama L'arte di ricominciare. Visto che stiamo ricominciando, stiamo riprendendo a raccontare cosa si fa per essere attori. Andiamo a svelare questo mestiere. Mi piaceva riuscire a... No, grazie. Ma no, ma che bello. No, veramente. Grazie, grazie. Mi ha piaciuto tantissimo. Davvero. Che bello. L'arte di ricominciare mi piace proprio perché faceva riferimento a quello che dicevo prima, che io a un certo punto sono arrivato lì e poi ho detto NO! Devo ricominciare. Non posso mollare. Perché mi sto tradendo. Ecco. Si. Esatto. Mi sto tradendo. Sono molto felice e contraccambierò al più presto. Va bene. Ragazzi, noi qui per oggi abbiamo dato e l'appuntamento è ogni volta per svelare sempre più il mistero di questo affascinante mestiere che è la ricitazione. Oggi il nostro primo ospite, Stefano. Mettete un bel like, commentate se vi è piaciuto, condividete a sfrombattuto sui vostri social. Grazie e alla prossima. Ciao! 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 Ciao!